Ridurre l'utilizzo del glifosato e promuovere la sostenibilità ambientale. Questo l'obiettivo del patto firmato tra Regione Toscana, distretto, rurale, vivaistico, ornamentale rappresentato dall'Associazione Vivaisti. Una firma per introdurre le buone pratiche ambientali nelle coltivazioni vivaistiche e ridurre così l'utilizzo di fitosanitari. Il patto è il secondo passo verso una Toscana glifosate free nel 2021. Secondo me è una scommessa anche in termini di competitività. E' avvenuto negli ultimi tempi un cambiamento di mentalità nella cultura delle persone per cui vinceranno quelle imprese che vinceranno la sfida di produrre senza inquinare e che sapranno liberarsi da una chimica che crea problemi. E quindi, insomma, siccome lì abbiamo i migliori imprenditori nel settore del vivaismo arriveranno senz'altro primi. Un obiettivo condiviso tra Regione e vivaisti. Questo percorso è faticoso, però si può fare se insieme a noi ci sono le istituzioni, ci sono tutti i partner che ci accompagnano sul mercato. Il protocollo punta a fissare impegni precisi come forme di collaborazione, l'istituzione di un tavolo di confronto e avviare le buone pratiche ambientali nei vivai. Noi questa svolta l'abbiamo fatta consapevolmente e l'abbiamo fatta cercando di non fare nessun tipo di forzatura ma di aprire obbligatoriamente dei tavoli di confronto che ci portino a fine del 2021 a fare divieto di utilizzo di questo erbicida che effettivamente produce effetti non positivi sulla falda. L'obiettivo di una Regione glifosate free al 2021 lo si raggiunge soltanto attraverso un grande patto con le imprese che devo dire si sono dichiarate subito disponibili e hanno capito perché loro stesse capiscono che oggi la sostenibilità, l'ecocompatibilità è un fattore di grande competitività sul mercato. Tra le altre cose la Regione si impegna ad individuare delle risorse nei fondi comunitari nella programmazione 2021-2028. Grazie a tutti.